Buonasera amici, ci siamo per analizzare i tempi delle prove libere a Jedda, andiamo a vedere chi ha convinto di più e chi ha convinto di meno nella pista saudita e vediamo anche chi è più favorito per fare la pole position, chi può andare più forte sul passo gara, insomma ci sbilanciamo un po'. Come sempre andremo a vedere anche i tempi e vi faccio vedere i passi gara a confronto. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Da ora in poi per ogni weekend di gara andremo a analizzare i tempi e vedere chi convince di più e chi convince di meno un'ora dopo che finiscono le sessioni della Formula 1, quindi dopo che si sono concluse le prove libere 1 e 2 come oggi andiamo a vedere subito i tempi e fare nostre stime, vedere chi andrà più forte e chi meno e stessa cosa anche per le qualifiche e per la gara. Quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate le notifiche per supportarmi in questo progetto. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, mi chiamo Il Rastro, dove lì pubblico contenuti più a tema automotive e vi avviso quando escono nuovi video sulle notizie da Formula 1 su YouTube. Detto questo, ditemi nei commenti ovviamente, secondo voi, chi è più favorito sia in qualifica che in gara. Dal mio punto di vista mi sbilancio subito, secondo me abbiamo visto una Ferrari molto solida in questo giovedì di prove libere, sia nelle prove libere 1 che nelle prove libere 2. Nelle prove libere 1 c'è da dire che Sainz non stava neanche al 100%, aveva anche un po' di febbre, quindi non possiamo neanche considerarlo più di tanto. Mentre abbiamo visto un Leclerc molto forte, sia sul passo gara, la pista comunque era in condizioni diverse, poi andremo a vedere anche il perché, però l'abbiamo visto subito concreto, una Ferrari facile da guidare fin da subito. Anche il setup è stato ottimo, quello preparato al simulatore prima di arrivare qui a Jedda. E devo dire che poi nelle FP2 abbiamo visto una Ferrari ancora più forte. E una cosa interessante da notare è che Ferrari ha comunque utilizzato l'ala più carica, quella che abbiamo visto anche in Bahrain. Vi faccio vedere la specifica, che è questa qui. Questa è l'ala posteriore di Ferrari, che è a medio-alto carico. E Ferrari l'ha utilizzata in Bahrain e l'ha utilizzata anche qui a Jedda, nonostante tutti gli altri team siano andati su una specifica da medio-basso carico. Perché Ferrari è andata a scaricare un po' di più la Bim Wing, tra le FP1 e le FP2, però l'ala posteriore è riuscita a mantenere quella da medio-alto carico e raggiungere gli stessi valori di velocità massima degli altri team. Quindi non pagava troppo sul rettilineo e riusciva a beneficiarne tanto, soprattutto nel primo settore e nelle curve da media velocità. Ma adesso andremo a vedere anche tutto con le telemetrie. Vi faccio vedere una cosa importante, ovviamente le classifiche delle prove libere. Quindi partiamo dalle prove libere 2. Anzi, facciamo prima prove libere 1, così almeno faccio vedere tutto quanto in ordine. Allora, prove libere 1, eccole qui. Adesso ve le apro fullscreen. Eccole qui, queste qua sono le prove libere 1. E vediamo subito i tempi molto interessanti, comunque già dalle prime prove libere, con Verstappen là davanti. Abbiamo ritrovato Alonso con Aston Martin lì nelle prime posizioni, sia nelle prove libere 1 che nelle prove libere 2. Un ottimo Perez vicino a Verstappen. Poi a seguire vediamo Russell, Leclerc, Sainz. Che comunque Sainz stamattina, nonostante aveva comunque la febbre, ha performato abbastanza bene. Era lì vicino a Leclerc, sul giro secco ovviamente. Poi sul passo gara invece ha fatto un po' più di fatica. E vediamo poi tutti gli altri tempi. Quello interessante da notare è sicuramente che è interessante notare come Hamilton e Russell abbiano avuto due comportamenti diversi sul proprio monoposto. Russell si trovava meglio sul posteriore, Hamilton un po' meno. Ma lo vediamo anche con la telemetria. Ci tengo a farvi vedere adesso la classifica dell'FP2. E poi andiamo a vedere i tempi. Questa è la classifica dell'FP2 con Alonso in prima posizione. C'è anche da dire che vediamo un Alonso così davanti perché secondo me vediamo tutti i motorizzati Mercedes che hanno spinto un po' di più di mappatura il motore. Come vi dicevo anche in Bahrain, come abbiamo visto anche l'anno scorso, tutti i motorizzati Mercedes nelle prove libere 1 e 2 salgono un po' di mappatura il motore. Magari provano anche i passi gara con meno benzina. E quindi questo avvantaggia loro sui tempi sul giro. Riescono ad essere più competitivi. E quindi tendono anche a distrarci un po' e pensare che possano andare meglio del previsto. Quando invece sia Ferrari che Red Bull si nascondono generalmente nelle prove libere 1 e 2. Non è che si nascondono. Girano comunque con un po' più di carico di benzina, una mappatura il motore più conservativa. Anche perché saranno tante gare in questa stagione. Quindi Ferrari non può permettersi di spingere il motore al massimo. Deve gestirli. Che ne ha 4 a disposizione per 24 gare. E quindi ci sta come strategia. Quindi vediamo la classifica con il primo tempo di Alonso in 1,28,8. Questi sono già tempi in simulazione qualifica. Secondo Russell in 29,0 a 2 decimi. Poi terzo Verstappen in 29,1 a 3 decimi. Quarto Leclerc 29,1 a 3 decimi anche lui. Poi a seguire Perez, Stroll, Sainz, Hamilton, Gasly, Piastri e via via tutti gli altri. Sicuramente quello che sorprende è vedere Alonso e Russell così davanti. Ma come vi ho detto appunto sono saliti un po' di mappatura il motore. Mentre se vediamo il distacco tra Verstappen e Leclerc è di pochi millesimi alla fine. 29,1 per entrambi. E sul giro secco sono molto vicini. Infatti bilancio già la mia provocazione. Secondo me, mi sbilancio già per il pronostico. Leclerc potrà lottare per la pole position con Verstappen. C'è anche da dire che abbiamo ritrovato una pista qui a Jedda con asfalto liscio. Meno degrado delle gomme. E questo si vede anche nella simulazione passo gara. Una pista un po' sporca. Comunque con tanti sacchetti anche per la pista. Abbiamo visto che Leclerc nelle FP1 ne ha preso uno. Sulla sospensione anteriore. Ovviamente la fortuna di Leclerc si fa sempre vedere. L'unico pilota che ha preso un sacchetto con la macchina. Però vedo comunque una Ferrari forte sul giro secco. E mi ha convinto molto anche perché ha una macchina leggermente più carica degli altri. E questo è buono perché permette alla SF24 di andare più forte nel primo settore specialmente. Non pagando troppo nelle FP2 e FP3. Scusate, non pagando troppo nel secondo e terzo settore. Vedremo poi se nelle FP3 monteranno l'ala da medio carico. Che vi ho detto che hanno portato qui a Jedda. Perché per ora non l'hanno montata. Non l'hanno provata su nessuno dei due piloti. Quindi vedremo se ci sarà bisogno di utilizzarla. Fatto sta che un'ala un pochino più carica ti permette di avere anche una gestione delle gomme. Poi il sabato per la gara migliore. Quindi questo aiuta sicuramente. Interessante vedere come nelle FP2 Leclerc e Sainz hanno provato due gomme diverse. Per la simulazione passo gara. Leclerc ha provato le soft. Mentre Sainz le medie. Quando generalmente abbiamo detto che la gomma che si utilizzerà in gara sarà la media. E poi si farà il p-stop per montarla hard. Quindi la strategia sarà quella. Però magari qualche pilota che riesce a gestire meglio le gomme potrà azzardare la soft. Vedremo chi lo farà. Adesso andiamo a vedere subito i passi gara dei piloti. E li mettiamo a confronto. Voglio partire specialmente con Leclerc e Verstappen. Che li ho già preparati. Prima andiamo a vedere la simulazione qualifica. Quindi il giro in 29.1 di Verstappen e 29.1 di Leclerc. Adesso andiamo a vedere l'insieme. Qui questo qua al confronto. Vedete come le velocità sono molto simili. Vediamo che Verstappen va leggermente più forte in arrivo di curva 1. come velocità massima. Arriva addirittura a 325 km orari. Mentre Leclerc si ferma a 323 km più o meno. Arriva poi a basso un pochino prima della staccata. E quindi diciamo che Verstappen arriva lì più veloce. Però se vediamo come in curva 1. Che è una curva molto lenta. Curva più lenta di Jedda. Vediamo come Leclerc riesce a tenere una velocità di percorrenza migliore. rispetto a Verstappen e quindi andare più forte in quel punto. Stessa cosa dopo nella curva successiva. Sempre nel primo settore. Vediamo come Leclerc riesce a andare leggermente più forte. Verstappen a centro curva. C'è una differenza di circa 8 km orari. E in generale se vediamo nella maggior parte delle curve di Jedda. Leclerc riesce a tenere una velocità di percorrenza migliore rispetto a Verstappen. Che magari riesce a andare un po' più veloce nelle accelerazioni. Vediamo come in uscita di curva riesce a andare più forte Verstappen. E anche in alcune velocità di punta. Quindi diciamo la differenza di comportamento sta proprio in questo utilizzo di un'ala posteriore diversa. E anche nel generare carico in maniera diversa. Doveva perdere un po' di più Verstappen. Sono appunto in percorrenza. Secondo me dobbiamo aspettare anche domani. Dove tutti i piloti andranno a finire il setup. Per vedere il limite massimo di ogni singolo team e di ogni singolo pilota. Perché come ha detto anche Verstappen. Verstappen si è un po' lamentato con l'ambiasia di un comportamento anomalo in curva 16. Dove lui non si è trovato tanto bene. Ci sono ancora in casa Red Bull sono lamentati ancora del cambio marcia. Quindi del downshift nella scalare le marce. Verstappen non si trova ancora bene con il freno motore. Insomma ci sono un po' di problemi. Sappiamo anche che Perez ha cambiato il cambio. Quindi ha fatto un cambio prima dell'FP1. E poi vediamo anche i valori medi. Se vediamo anche l'acceleratore. In questo caso nel confronto sempre le Clerc e Verstappen. Vediamo che le Clerc riesce a tenere un po' più di gas nella maggior parte delle curve. E anche a staccare un po' dopo rispetto a Verstappen. Questa ha anche la mappatura dei giri motore. Quindi vediamo un po' come si comporta la monoposto. E sono molto simili come andamento. Ma andiamo a vedere adesso il passo gara dei due piloti. E vediamo di metterli a confronto. Questo è il passo gara di Verstappen e Leclerc mostrato nell'FP2. Con Verstappen che ha girato con gomma media. Mentre Leclerc con gomma soft. Partiamo dalle Clerc che ha iniziato la sua simulazione con un tempo abbastanza alto. In 1.35.2 E poi è andato a abbassare i suoi tempi. Quindi 1.35.2 1.34.6 1.34.4 1.34.6 1.34.2 1.34.3 1.34.5 1.33.8 E poi i tempi vanno ad alzarsi. Quindi diciamo è andato a abbassare però i tempi da partire da 1.35.2 Fino ad arrivare a 1.33.8 E' andato a migliorare. Sappiamo anche che Jedda come vi ho detto prima è una pista dove si consumano poco le gomme. E proprio per questo riesci ad andare avanti con i giri e abbassare il tempo perché vai a consumare la benzina. Quindi è una macchina più leggera e riesci quindi ad abbassare anche i tempi. Vediamo invece lo stint di Verstappen che parte con un 34.2 molto competitivo. Quindi un secondo più veloce rispetto al tempo di Leclerc 34.3 Poi 33.9 33.9 34.2 Un tempo di cooldown più lento in 1.43.6 1.34.0 1.34.0 1.33.9 1.33.7 Quindi il ritmo se voi prendete la media tra i due passi gara provati da Leclerc e Verstappen non è così diverso. Cioè il ritmo è abbastanza simile. C'è da dire che però il ritmo di Verstappen va a fare più 33. Va a fare più tempi sotto il 34. E sembra essere anche molto più costante e tendente verso il basso. Quindi secondo me sul passo gara Red Bull è ancora superiore rispetto a Ferrari. Però sul giro secco secondo me Ferrari può lottare per la pole position domani con Leclerc. Sainz ha avuto un po' più di problemi oggi per via della febbre e poi ha provato anche il passo gara con la media che adesso andremo a vedere. Quindi secondo me non lo so se sarà così avanti a giocarsi a pole position. Secondo me no. Ritroveremo quindi Leclerc là davanti. Attenzione anche a Perez che non è andato male anche lui sul passo gara. Adesso andiamo a vedere sia Perez che Sainz e andiamo a confrontarli. Poi andiamo a vedere anche ovviamente Alonso e la Mercedes e anche la McLaren per fare un paragone completo. Un attimo che carico i tempi così li andiamo a confrontare insieme. Ok andiamo a vedere prima il passo gara di Perez e poi quello di Sainz. Perez parte con un 34.9 poi 34.2, 34.4, 34.3, 34.1, 34.6, 35.0, 34.1, 34.4, 34.6, 34.5, 34.8, 34.3, 34.1, 34.0. Un buon ritmo di Perez perché è stato molto costante e la cosa interessante a notare è partito con un 34.9 e ha terminato con un 34.0 con ovviamente la macchina più leggera quindi più facile. C'è da dire che è stato un ritmo molto più lento rispetto a quello di Verstappen e quindi sul passo gara Verstappen è superiore e secondo me quest'anno Perez non può lottare per la vittoria contro Max. Lo vedo un passo indietro diciamo però magari se la giocherà con Leclerc per quella seconda posizione e al contrario abbiamo visto invece il passo gara di Sainz. Adesso lo faccio vedere che è questo qui. È partito con un 35.2 poi 35.0, 34.9, 34.5, 34.4, 34.1. Vedete che è un pochino più lento rispetto a quello di Leclerc, Sainz oggi ripeto ha anche avuto la febbre quindi non era al 100% e comunque non è neanche troppo lontano dal ritmo di Leclerc. Però sì non è neanche ai livelli del ritmo di Perez, lo vedo un attimino più indietro quindi probabilmente lotterà per la quarta, quinta posizione Sainz. Andiamo a vedere anche gli altri, specialmente sia Aston Martin che Mercedes ma anche McLaren e vediamo di confrontarli perché molti potrebbero dire cavolo ma questa Aston Martin con Alonso è andata fortissimo. Oggi abbiamo visto la davanti sia nella FP1 che nella FP2 potrebbe addirittura lottare se non per la pole position per le prime tre posizioni in qualifica e magari anche in gara. Secondo me Aston Martin è andata un po' su di motore, l'aveva già confermato anche Alonso che avrebbero adottato questa strategia anche nelle prove libere e così si è dimostrato. Abbiamo visto comunque una buona Aston Martin sul degrado delle gomme però il ritmo è un po' influenzato anche da questa scelta di correre con un po' meno di benzina quindi avere una macchina più leggera fin dall'inizio e anche una mappatura del motore un pochino più conservativa. Andiamo a paragonare i tempi, adesso vi faccio vedere tra Alonso, Hamilton e prendiamo anche Russell. Possiamo magari, vediamo un po', magari prendo Hamilton che ha fatto uno stink più lungo rispetto a Russell, sì. Hamilton che ha fatto uno stink un pochino più lungo rispetto a quello di Russell quindi possiamo confrontarlo meglio. Ma vediamo, no entrambi hanno fatto dei stink comunque corti in casa Mercedes. Quindi prima andiamo a vedere Alonso e dopo andiamo a vedere Mercedes, dai facciamo così. Questo è lo stink di Alonso che ha fatto con gomma media, ha fatto tanti giri, è partito con un 34,6, 34,7, 34,5, 34,7, 34,6, 34,5, 34,9. Giro più lento di cooldown in 1,42, poi 35,0, 34,9, 35,3, 35,4. Comunque sulla simulazione passo gara si vede che il ritmo è più lento rispetto a Red Bull e Ferrari quindi non è lì al livello. Alcuni potrebbero pensare che possa essere a livello di Mercedes, secondo me Mercedes con Russell rimane comunque superiore. Però sarà da vedere sicuramente nell'FP3 poi in qualifica se anche Mercedes ha fatto quello stepping più di potenza come ha fatto anche Aston Martin oppure se Aston Martin è un po' stato diciamo l'unico team che ha fatto questa strategia. Adesso andiamo a vedere insieme i tempi sia di Hamilton che di Russell e poi vi metto anche quelli di Norris e Piastri così andiamo a vedere sia McLaren che Mercedes. C'è da dire che Mercedes ha fatto una strategia un po' diversa nell'FP2 facendo dei long run più corti quindi non si hanno delle idee proprio precise sul passo gara fatto segnare dai piloti perché hanno fatto pochi giri in sostanza. Adesso vi faccio vedere insieme i tempi eccoli qui partiamo con Hamilton 34,6 34,6 ancora 37,0 quindi giro più lento 34,4 poi giro molto lento 154,4 e poi basta e poi si è fermato. Mentre Russell inizia dopo 34,2 36,5 quindi giro molto lento 53,0 34,6 34,4 34,2 e poi basta. Guardo se ci sono altri tempi ma non credo questa qua è la simulazione finale fatta dai piloti vedete che i tempi di Russell sono leggermente migliori rispetto ai tempi di Hamilton che si è trovato secondo me peggio sul bilanciamento della monoposto infatti accusato un po' un posteriore troppo leggero rispetto a Russell. Mentre Russell si è trovato meglio con il bilanciamento infatti lo dimostrano anche i tempi leggermente più bassi di 2 o 3 decimi più o meno di differenza tra i due. Andiamo a vedere invece McLaren magari togliamo Mercedes in questo caso e vediamo i tempi di McLaren nel dettaglio. Ok abbiamo le due simulazioni fatti sia con gomma media che con gomma hard 34,7 di piastri lui ha utilizzato piastri e ha utilizzato gomma media quindi 34,7 34,4 35,0 di piastri 35,1 i piastri 35,1 36,3 35,1 37,3 quindi giri un po' alti poi. Non è stato un ritmo buonissimo quello di piastri perché comunque è stato principalmente sul 35 però questo è quello che ci ha mostrato. Adesso andiamo a vedere invece Norris un attimo ok ha fatto un 34,8 34,7 34,9 34,4 34,1 i tempi di Norris molto interessanti perché li ha fatti con gommard è arrivato addirittura a segnare un 34,1 quindi Norris si è dimostrato nettamente superiore a piastri sul passo gara e non è male con gommard fare un 34,1 come ultimo giro di simulazione passo gara non ha fatto tantissimi giri c'è da dire però comunque è ha convinto ha convinto sul passo gara secondo me in qualifica McLaren farà comunque un po' più di fatica anche nei confronti di Mercedes. Sappiamo che McLaren accusa molto la resistenza aerodinamica che è uno dei talloni da kill diciamo del team di walking quindi vedremo se riuscirà ad andare meglio ma lì fanno un po' più di fatica. Andiamo a confrontare sul giro secco tutti quanti così vediamo le differenze più importanti quindi metto Vestappen, Leclerc magari metto un pilota per ogni team quindi mettiamo Russell, mettiamo Norris e mettiamo Alonso. Andiamo a confrontare i loro giri così vediamo chi ha convinto di più in quale curva e facciamo un po' di confronti. Allora si vede subito da questa grafica come Aston Martin sia molto veloce di motore vedete che come velocità di punta arriva addirittura a 328 km orari quando gli altri stanno bene o male sui 325, 323, 324 McLaren 320 quindi vedete che è quella un po' più carica quella che perde un po' di più. Velocità di percorrenza vediamo che si comporta molto bene in questo caso Mercedes 96 km orari come velocità minima e Ferrari non va male però abbiamo Mercedes poi in sequenza anzi Aston Martin e Mercedes molto vicine molto cariche poi abbiamo McLaren poi Ferrari poi Red Bull. poi nelle curve invece medie vediamo vediamo se riusciamo ad arrivare giusto al punto minimo vediamo anche l'approccio in curva che è leggermente diverso con McLaren in questo caso con Norris che stacca più forte ma poi esce più piano però se prendiamo una media in percorrenza vediamo che Red Bull è quella che addirittura ha la velocità più bassa nelle curve medie. poi c'è Mercedes che diciamo in termini in ordine decrescente vediamo Mercedes poi Ferrari che non va male e Aston Martin che è la migliore in percorrenza ma perché Aston Martin è quella che genera un po' più carico accusando poi un po' di resistenza aerodinamica sul dritto che in questo caso però va a compensare con una mappatura al motore più alta quindi sottolineiamo anche questo aspetto. andiamo a vedere nelle curve veloci invece in questo caso vediamo addirittura come Mercedes faccia molta fatica qui dovendo alleggerire il gas in questo caso abbiamo Russell perché abbiamo visto una Mercedes che non è facilissima da guidare rispetto agli altri team fa un po' più di fatica sia con Russell che con Hamilton soprattutto Hamilton ha fatto fatica ma anche Russell si vede che nel suo giro migliore non è riuscito a trovare la quadra ecco. vediamo invece le velocità di percorrenza nelle curve veloci va molto forte Red Bull è tra le migliori poi abbiamo Ferrari che non va male poi McLaren e poi Aston Martin e Mercedes quindi attenzione che Ferrari si conferma comunque molto forte seconda forza anche nelle velocità nelle curve veloci e questo è un aspetto che l'anno scorso non ci potevamo immaginare quindi tanta roba. poi adesso non voglio analizzare ogni singola curva però mediamente i valori sono quelli vedete che come velocità di punta vediamo Mercedes addirittura in questo caso andare molto forte in generale vediamo Aston Martin anche che ha una mappatura di motore più aggressiva rispetto agli altri. comunque Ferrari nonostante abbia utilizzato un'ala più carica degli altri leggermente non tanto perché è a medio alto carico però comunque non va a pagare di resistenza aerodinamica paga molto di più McLaren che vedete in tutte le velocità di punta McLaren è quella che fa più fatica e nonostante ciò fa fatica anche in molte curve in percorrenza. quindi sul giro secco McLaren fa molta fatica. quindi questi sono i questa è un po' diciamo la lettura che ho dato a tutte le velocità e diciamo i tempi in simulazione qualifica vedete anche qui nel delta i distacchi come McLaren faccia più fatica nel terzo settore che è il terzo settore quello più veloce. vediamo come McLaren perde un po' di più nel settore più guidato quindi come vi ho detto fa un po' più di fatica lì e Ferrari perde un pochino di più se vogliamo nella parte di allunghi nell'ultimo settore anche perché è vero che paga qualcosina di più per quell'ala più carica anche se non tanto devo dire e anche un po' è la mappatura del motore sicuramente essere stati un pochino più conservativi. al contrario McLaren va molto forte nel primo settore a parte guidata Red Bull invece va forte un po' ovunque vedete che Red Bull è un po' la macchina più bilanciata anche in questo vediamo anche qui dal giri motore come Aston Martin sia palesemente su di motore come anche Mercedes lo è in questo caso e quindi sarà interessante vedere chi andrà meglio chi andrà peggio se devo sbilanciarmi ad oggi vi dico che vedo una Ferrari che può potenzialmente lottare per la pole position contro Red Bull con Leclerc e Verstappen molto simili poi un passo indietro vedo sicuramente Perez poi Sainz in qualifica vedo forte Mercedes poi McLaren e Aston Martin molto vicine forse Aston Martin in qualifica può fare anche un po' qualcosina meglio di McLaren ma vedremo quanto si è nascosta McLaren e quanto invece si è esposta Aston Martin per quanto riguarda il passo gara invece vedo nettamente più forte Red Bull con Verstappen che ha un passo gara più costante quindi Verstappen è il candidato numero uno alla vittoria anche perché se Ferrari dovesse comunque gestire bene le gomme Verstappen ha un vantaggio negli allunghi e in zona di RS riesce a essere più scarico e riesce quindi secondo me riuscirà a fare un sorpasso nel caso Leclerc dovesse partire dalla pole position Verstappen potrà fare il sorpasso nei primi giri perché sarà un po' più scarico e potrà spingere un po' di più e quindi avere quel beneficio lì se vogliamo se dovesse partire dalla pole position Verstappen può gestire e averla meglio su Ferrari quindi in gara vedo Red Bull ancora prima forza seconda forza Ferrari terza forza se la giocheranno un po' Mercedes Aston Martin McLaren dipenderà anche quale team è un po' più scarico magari riuscirà a fare più facilmente i sorpassi però attenzione che comunque ci sarà da gestire le gomme anche se c'è un asfalto più liscio quindi la gestione passa un po' in secondo piano vedremo sarà interessante vedere una lotta tra questi team attualmente vedo Mercedes Aston McLaren un pochino superiori forse sul passo gara perché hanno scoperto meno le carte rispetto a Aston Martin ma vedremo vedo questi tre team molto vicini però non li vedo in lotta per la seconda posizione intendo come seconda forza quindi secondo me non impensieranno poi Ferrari per la lotta là davanti ma vedremo ditemi anche voi nei commenti quali valori vi aspettate per le qualifiche per la gara Leclerc può fare la pole position secondo voi oppure è nelle mani di Verstappen o Perez che anche Perez l'abbia ritrovato comunque forte qui a Jedda ditemi la vostra nei commenti e ditemi anche chi ritroverete più forte secondo voi per la gara cioè sul passo gara Ferrari può lottare per il podio vedete qualcun altro può addirittura lottare per la vittoria ditemi tutto nei commenti e adesso faccio vedere alcune cose che magari mi sono lasciato indietro vediamo se c'ho qualche cosa da far vedere facciamo un confronto sull'ala posteriore al volo che ci tenevo a far vedere questa qua è l'ala posteriore di McLaren questa è quella di Ferrari questa addirittura quella più scarica di Mercedes vedete come è diversa rispetto anche gli scorsi anni vedete anche questa parte laterale che viene tagliata dell'ala posteriore per avere meno resistenza aerodinamica e questa è quella di Aston Martin che è un po' più carica rispetto a quella degli altri soprattutto vedete com'è diversa anche la configurazione dell'emplate possiamo dire dell'ala posteriore la parte laterale diciamo sulle velocità di punta adesso vediamo ve le faccio vedere al volo quelle delle FP1 possiamo vedere magari vediamo se ho quelle delle FP2 faccio vedere quelle delle FP1 che vedono Vestappen e Perez là davanti poi Magnus & Colas poi Sainz che aveva comunque una velocità di punta molto alta e poi via via tutti gli altri diciamo che tra FP1 e FP2 le velocità di punta non sono cambiate tantissimo vediamo una Red Bull là davanti Ferrari che ha provato due soluzioni diverse come setup nelle FP1 poi dopo ha cambiato è andato su un setup un pochino più carico nelle FP2 ma vedremo se nel FP3 cambierà questo scenario Mercedes lì in mezzo e McLaren è quella che fa un po' più di fatica sulla velocità massima come anche Aston Martin che però nell'FP1 Aston Martin è stata conservativa di motore al contrario nell'FP2 è data molto più su di motore e ha risparmiato anche come carico di benzina quindi ha avuto un comportamento opposto a Aston Martin tra FP1 e FP2 però secondo me sia McLaren che Aston Martin sono i due team che fanno un po' più di fatica come resistenza aerodinamica l'accusano un po' detto questo questa è la mia lettura delle prove libere vedremo domani anche le prove libere 3 le qualifiche le andremo a analizzare insieme subito dopo il termine delle qualifiche vedremo anche cosa ci possiamo aspettare per la gara qui da Rust è tutto spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo a un prossimo video per analizzare le qualifiche e poi la gara a Jedda ciao buona serata